ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti nella mia cucina oggi andremo a preparare la polenta con la brace sulla brace con la pentola di terracotta abbiamo preparato la nostra pendola abbiamo aggiunto acqua ora aggiungiamo un po d'olio e un po di sale ora aggiungiamo cipolla carota e sedano ora aggiungiamo il macinato andremo a coprire lasciamo cuocere per alcuni minuti ora aggiungiamo salsiccia e costatine di maiale andremo a coprire e lasceremo cuocere siamo arrivati a metà cottura ora aspettiamo che si assorbe tutta l'acqua che abbiamo messa e che lo rosoliamo un po ora aggiungiamo la passata di pomodoro e lasciamo bollire per almeno un'ora andremo a coprire lasciamo bollire andremo a coprire la polenta è pronta il sugo lo stesso ora la prepariamo andremo a coprire ecco ora ci versiamo il sugo sopra ecco ora ci versiamo il sugo sopra ecco è pronta ora prepariamo i nostri piatti ecco i nostri piatti sono pronti grazie per aver seguito il mio video ricetta spero che vi sia piaciuto continuate sempre iscrivervi al mio canale se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e ci risentiamo al prossimo video buona giornata a tutti a presto ecco 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 ecco